Nino Natale, si rinnova l'appuntamento con il Memorial Guercioni, quest'anno ventesima edizione, con una, tra virgolette, gara di regolarità destinata come di consueto alle Ferrari. Sì, siamo a vent'anni e purtroppo quest'anno è stato inserito anche un primo Memorial Elisa Bomba, proprio scomparsa qualche mese fa. Sì, sarà un percorso di regolarità per stirare poi una classifica per la premiazione del Memorial, sia di Guercioni che Elisa Bomba. Sono attesi diversi equipaggi, da Abruzzo e Marchesi, partirà da Villarosa per arrivare a Garrufo. Sì, ritrovo in mattinata al centro commerciale della Torre, poi trasferirsi durante lo svolgimento della manifestazione a Garrufo di Sant'Omero. Da lì poi ci sarà una piccola delegazione che dovrà ricordare la signora Elisa al cimentiato di Sant'Omero e finire poi con un pranzo congiriale al Congordo di Sant'Egidio.